L'arrivo degli ospedali da campo sta facendo molto discutere. In tanti si sono dichiarati contrari a quella che è stata una richiesta del presidente facente funzione della regione Calabria, Nino Spirli, accolta dalla protezione civile. Gli ospedali saranno montati a Cosenza, Crotone, Vibo, Valenzi e Locri, ma come detto sono stati in tanti a contestare la scelta, fra questi anche il procuratore Nicola Gratteri e tanti altri rappresentanti del mondo politico che chiedono in alternativa la riapertura degli ospedali chiusi. Fra questi anche il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Sapia che ha presentato un emendamento al nuovo decreto Calabria, l'obiettivo appunto di riaprire gli ospedali chiusi ma non solo. Ho presentato uno specifico emendamento al nuovo decreto Calabria, detto Sapia, al fine di sospendere per l'intera durata della pandemia i vincoli del piano di rientro e quindi consentire l'assunzione del personale necessario, ora indispensabile come il pane.